1-0 per noi purtroppo, in un episodio ma alquanto dubbio è stato espulso di Civitano in quel momento era sicuramente il migliore in campo per cui diciamo il massimo 10 e ci ha pregiudicato, ha rischiato di pregiudicarci fino a quel momento la squadra aveva fatto la sua prestazione, c'era stato un grosso ingegno sia sotto il profilo tecnico-tattico sotto il profilo fisico per cui su questo non ho niente da dover addebitare, però sai magari mi sarebbe piaciuto vederla 11 contro 10 come andava a finire. Dobbiamo pensare alla nostra crescita, al lavoro che abbiamo da fare settimana non è che sul campo, poi dopo, insomma alla fine tireremo le somme, ma il nostro obiettivo non deve essere mai più lontano dell'allenamento di martedì, per cui noi dobbiamo giorno per giorno cercare di fare il massimo sia in allenamento sia in partita, per cui senza distrarci troppo, senza fare i poli pindarici.